Buongiorno e benvenuti ad occhio ai giornali di oggi martedì martedì 12 maggio 2015 subito il santo del giorno poi le previsioni del tempo oggi è San Pancrazio il sole sorto le 5 45 e tramonterà le 20 e 23 vediamo subito il tempo ecco il tempo e la fotografia della nostra webcam che ci mostra la città di Fano sotto un cielo sereno temperatura alle 7 e 30 di 13 gradi e 8 quasi 14 gradi il tempo per oggi sarà sereno poco nuvoloso con temperature stazionari a lieve aumento eventi a regime di brezza per domani mercoledì 13 maggio avremo cielo sereno poco nuvoloso mentre per la giornata di giovedì 14 avremo un cielo da poco a parzialmente nuvoloso per nubi stratificate temperature stazionari i venti saranno moderati per i prossimi giorni a partire dalla giornata di venerdì l'afflusso di aria più fresca potrà dare il via ad una fase di tempo instabile anche sulla nostra regione e andiamo adesso a vedere invece i giornali i giornali partiamo da una notizia che ha il resto del Carlino in esclusiva questa mattina perché si tratta di un episodio brutto episodio speriamo sia l'unico nella nostra provincia un episodio di estorsione i danni di una di un'azienda importante come la profilglas eccola qua la notizia chiedevano il pizzo alla profilglas sono stati presi due napoletani che sono stati arrestati in flagranza di reato con 30 mila euro in contanti oggi l'udienza di convalida davanti al jeep i carabinieri hanno preparato la trappola sono due napoletani che alcuni mesi fa questi estorsori avevano già avuto spuntato decine di migliaia di euro ai paci i paci sono i titolari della profilglas ma pochi giorni fa erano tornati alla carica e hanno detto vogliamo 30 mila euro oppure faremo danni lì hanno capito evidentemente i titolari che se avessero ceduto una seconda volta avrebbero dato il via evidentemente ad una storia infinita invece hanno deciso saggiamente di rivolgersi alle forze dell'ordine e ai carabinieri che hanno fotocopiato i soldi e poi ovviamente è scattata la trappola e sono stati tratti immediatamente in arresto e questo dovrebbero fare tutti gli imprenditori non solo del nostro territorio ma di tutta italia anche se mi rendo conto non è sempre così facile o perlomeno è facile a dire a dirsi ma poco magari a farsi allora cambiamo pagina sempre sul resto del carlino invece il problema della casa Zucchilli che è ex presidente dell'Erap denuncia che dal 2013 c'è un appartamento che non è quello che vedete nella fotografia questa è un'immagine di repertorio e quindi non c'entra nulla un appartamento popolare in via Giulini che è vuoto e inutilizzato da due anni dal 2013 l'Erap non è mai riuscito a rientrare in possesso di quell'immobile un alloggio sottratto alla disponibilità di Zucchilli delle famiglie che ne hanno bisogno poi la notizia della foto notizia con il saluto del comandante della Capitaneria di Porto di Fano Fabrizio Marilli che verrà trasferito andrà a Venezia è una successione di routine in Capitaneria Fano ogni due anni si cambia il comandante quindi sono già passati due anni ed ecco che Marilli lascia il posto al nuovo comandante che come vedete nella fotografia è una donna si tratta del tenente di Vascello Eliana Di Donato che qui è stata salutata dal sindaco di Fano Massimo Seri la cronaca da Fossombrone va alla festa con la droga un quarantenne è stato arrestato i posti di blocco dei carabinieri hanno dato i loro frutti anche un denunciato in manetta è finito un quarantenne di Viterbo sorpreso con 103 grammi di hashish poi la denuncia invece di un 31enne padovano sorpreso con 22 grammi e alcune dosi di cocaina occupa una villa chiusa e fa cambiare il contatore una sudamericana è stata cacciata la casa in via costa a Pesaro appartiene ad un avvocato il proprietario è stato avvisato dai vicini di casa e ha bloccato la donna al cancello fatti intervenire i carabinieri, i vigili urbani e persino l'esercito può essere un caso isolato ma l'occupazione di case e ville chiuse aveva sempre riguardato zone più periferiche o alloggi popolari ora invece c'è stato il salto di qualità e l'occupazione di una villa addirittura seppur chiusa poi la città che cambia di Pesaro Ricci, il sindaco, rifà il centro storico rifà il look a molte strade, molte vie nuove opere, via i parcheggi Ricci presenta i progetti per esempio dice da via San Francesco dobbiamo togliere la gomma sotto la galleria e il corso deve essere lasciato libero dalle auto e poi il Carlino sulla pagina di Pesaro si occupa del sospiro di sollievo per quanto riguarda il basket tirato dai pesaresi, dai tifosi pesaresi giostra di sponsor per decidere il futuro della squadra di basket a Pesaro tutto dipende da cosa si mette sul piatto parlano Costa e Amadori e dicono il prossimo anno vorremmo una giornata finale più tranquilla rispetto a quella vissuta domenica pomeriggio apriamo adesso il Corriere Adriatico anche qui in evidenza sulla pagina di Pesaro l'iniziativa e l'annuncio del sindaco di Pesaro Ricci un milione e mezzo per cambiare il centro storico poi ancora dal Corriere un rave party a Montalto con un arresto sequestrati a ascici e cocaina nei guai 11 giovani denunciati e segnalati poi la notizia che il comune di Fossombrone ha ottenuto 762 mila euro dall'Enel dall'Enel li abbiamo incassati dice il sindaco Pelagaggia dall'Enel si tratta di ICI e IMU non corrisposte negli anni per la centrale idroelettrica di San Lazzaro poi un pellegrinaggio un pellegrinaggio interessante sono 33 chilometri notturna quasi 13 ore di camminata insomma una marcia sulle orme di Santa Veronica Giuliani a Mercatello sul Metauro dove sabato allo scoccare della mezzanotte in piazza Garibaldi partirà questo pellegrinaggio verso il monumento dedicato alla Santa che si trova a città di Castello dunque 33 chilometri la pagina di Fano invece si occupa in tutto e per tutto questa pagina del caso Rincicotti Orciani tutto condiviso dalla proprietà Umberto Rincicotti tira fuori le carte Aset sapeva ogni cosa risarcimento infondato l'imprenditore comprò la Pulifox perché Mattioli ci ripensò la sua consulenza era a nome dell'Ecogest e ancora i cani mettono in fuga i ladri dalla casa del sindaco ex sindaco di Fano Aguzzi c'è stata una nuova incursione dei ladri nella casa dell'ex sindaco non è la prima volta che malintenzionati cercano di penetrare nell'abitazione dell'ex sindaco di Fano per appropriarsi di tutto ciò che può avere un minimo di valore il nuovo episodio si è verificato sabato notte intorno alle 2 però poi ci sono ci hanno pensato i cani che si sono messi ad abbaiare gli hanno fatti scappare l'idos sicurezza prioritaria sì ai tutori dell'ordine il sabato sera utile però anche un nuovo arredo eventi soprattutto in bassa stagione poi a Mondolfo statuto comunale la modifica è legittima articolo sulla presenza in giunta delle donne rinviare l'applicazione della norma non è conforme modifica dell'articolo 31 in adeguamento alle leggi che prevedono la partecipazione in giunta di entrambi i generi a Senigallia si vota non solo per le regionali ma anche per le comunali 5 stelle l'onestà andrà di moda il candidato sindaco Martin Angeli dice la nostra e la banda degli sconosciuti alla politica e alle procure e adesso apriamo invece il messaggero messaggero in prima pagina progetti per il centro storico il sindaco Ricci incontra gli operatori e annuncia l'impegno di un milione e mezzo di euro via la sosta per le auto in corso 11 settembre e piazza Olivieri chiusa via Cavour per 10 ore a centro pagina invece dopo lo spavento per quanto riguarda il basket dopo lo spavento adesso si pensa al futuro Scuola Boschi il ministro Boschi imbarazza il candidato alla guida della regione Marche l'ex sindaco di Pesaro Ceriscioli il candidato che è anche professore dice avrei scioperato contro questa riforma andrebbe mitigato lo strapotere dei presidi e rivisto il ruolo dei precari spacca gli insegnanti e tutto il personale meritano rispetto non è accettabile far tacere il dissenso e bollarlo come teleguidato ancora sull'ex AMGA Pesaro la bonifica con la cupola raddoppia i costi il comitato del porto dice la copertura è ritenuta non indispensabile dal comune chiediamo maggiore cautela ma anche trasparenza poi su via Castelfidardo Ricci dice diventerà la strada dei fiori mentre la Confcommercio dice no quella strada deve essere la strada dedicata al vetro la strada del vetro basta soffrire grande WL Walter Scavolini farò la mia parte anche l'anno prossimo ma spero di non essere solo mentre il sindaco ci sono le basi per crescere ancora la Meloni la Meloni oggi in tour a Fano e a Pesaro Giorgio Meloni lancia la campagna elettorale di Fratelli d'Italia a Pesaro l'appuntamento è a mezzogiorno per la passeggiata al mercato settimanale con ingresso lato San Decenzi e poi avrà altri appuntamenti tra cui alle 12.45 l'incontro con i sindacati di polizia i vigili del fuoco il corpo forestale la questura la polizia penitenziaria eccetera poi avrà altri appuntamenti poi alle 15 invece tavola rotonda con i pescatori e i vongolari al porto di Fano e chiudiamo con la pagina di Fano dunque con la vicenda Rincicotti-Orciani il PD sospetta una trappola a 5 stelle per Minardi il Presidente del Consiglio è stato convocato infatti oggi nel pieno della campagna elettorale parteciperò dice lui in tutta tranquillità perché non ho niente da nascondere parteciperà a che cosa? a un'audizione della Commissione Comunale di Garanzia e Controllo che è stata richiesta dalla Presidente Grillina investito sulla Pergolese i funerali slittano a domani domani pomeriggio i funerali di Lamberto Fenocchi di 72 anni morto sabato scorso mentre attraversava la strada lungo la cesanense all'altezza di Ponterio di Monteporzio Bibon questo era il soprannome di Lamberto i funerali si svolgeranno domani alle 15.30 nella chiesa di San Giuseppe a Marotta poi una lettera una lettera di uno sportivo di un residente fanese che pratica molto sport stiamo parlando di Ceresani Massimo Ceresani che scrive una lettera e dice quei lampioni della ciclabile sono un rischio sta parlando dei lampioni a led di ultima generazione che Aset sta installando sono 165 lungo i 4 km della pista ciclabile con una spesa complessiva di circa 100.000 euro ebbene secondo Ceresani basta urtare con una manopola o un freno il lampione contro il lampione e la caduta è servita mentre all'inizio l'alloggiamento dei palli risulta effettuato ad arte tutto il resto è da lacrime questa è la versione di Ceresani su come sono stati fatti i lavori sulla pista ciclabile per quanto riguarda l'illuminazione la rassegna stampa finisce qui Occhio ai giornali torna domani mattina in diretta alle 7.30 vi ricordo le replica alle 9.10 alle 13.30 poi a rullo fino alle 8.30 mentre questa sera alle 20.30 ci sarà l'appuntamento con il nostro telegiornale per le vostre segnalazioni vi invito a chiamare a scrivere a mandarci un messaggio su Whatsapp al 338 4968 250 è tutto buona giornata arrivederci a